La coscienza, un mistero ancora irrisolto. La coscienza è uno dei fenomeni più affascinanti e misteriosi della natura. È ciò che ci rende esseri umani, ciò che ci permette di percepire il mondo e di interagire con esso. Ma cos'è esattamente la coscienza? Come si è formata? E come funziona? Un concetto difficile da definire. La coscienza è un concetto difficile da definire. Non esiste una definizione univoca che sia accettata da tutti gli studiosi. Alcuni la definiscono come la capacità di essere consapevoli di sé e del mondo circostante. Altri la definiscono come la capacità di pensare, di provare emozioni e di prendere decisioni. Altri ancora la definiscono come la capacità di sperimentare la soggettività. Un fenomeno multiforme. La coscienza è un fenomeno multiforme. Si manifesta in molti modi diversi, sia a livello fisico che mentale. A livello fisico, la coscienza è associata a una serie di processi cerebrali, come la percezione, l'attenzione e la memoria. A livello mentale, la coscienza è associata a una serie di esperienze soggettive, come il pensiero, le emozioni e la consapevolezza di sé. Un mistero irrisolto. La natura della coscienza è ancora un mistero irrisolto. Gli scienziati non hanno ancora capito come si è formata e come funziona. Ci sono molte teorie diverse, ma nessuna di esse è in grado di spiegare completamente il fenomeno. Un percorso evolutivo. Alcuni studiosi ritengono che la coscienza si sia evoluta nel corso del tempo, come risultato di una serie di fattori ambientali e genetici. Altri ritengono che la coscienza sia un fenomeno emergente, che non può essere ridotto a una semplice somma delle sue parti. Una questione filosofica. La coscienza è anche una questione filosofica. Si discute da secoli se la coscienza sia un fenomeno materiale o immateriale. Se è materiale, allora dovrebbe essere possibile spiegarla in termini scientifiche. Se è immateriale, allora sarebbe un fenomeno che va oltre la comprensione scientifica. Un futuro incerto. La ricerca sulla coscienza è ancora agli inizi. È probabile che ci vorranno molti anni prima che gli scienziati siano in grado di comprendere appieno questo affascinante fenomeno. La coscienza è un fenomeno complesso e multiforme che ancora non comprendiamo appieno. La ricerca sulla coscienza è un campo in rapida evoluzione, ma è ancora agli inizi. È probabile che ci vorranno molti anni prima che gli scienziati siano in grado di comprendere appieno questo affascinante fenomeno. Intanto, la coscienza rimane un mistero che ci affascina e ci interroga. Ma cosa succederebbe se un giorno riuscissimo a comprendere completamente la coscienza? Sarebbe come scoprire il segreto della vita stessa. Un'impresa che potrebbe cambiare il nostro modo di vedere il mondo e di noi stessi. Una prospettiva che è al tempo stesso affascinante e inquietante. Cosa ne pensi? Lascia un commento e iscriviti al canale. Grazie al prossimo video.